Pronto? Ah? Tu a chi vuoi? Tu a chi vuoi? A chi vai in cerca tu? Tu a chi vai in cerca? Eeeh! 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 Tu ci stai parlare, tu a chi vuoi? Tu mi hai telefonato a me, tu a chi vuoi, non io! Tu a chi vuoi? Ma vai a morire ammazzata dai! Eeeh! 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 Ma dici? Animalo! Ma comunque la mutantina ce l'hai no? Tu ce l'hai la mutantina? Sono solo sul letto che sto bello fresco fresco. Ah, fresco fresco! Sempre fresco fresco di te! Sempre bello, sempre bello la mia portata. E' sempre bello la mia portata. Sempre bello, però è la mia portata mia. Eeeh! Ahahah! Hai sentito? Si, si, ho sentito bene. Beeeh! Non si può mai immaginare! Eeeh! Animalo! Ah, allora lavorai vicino a me. Tanto bello a fare l'amore. A fare l'amore? Perché mi lavora? Quanto è bello il sesso! Eh, bello il sesso! Pronto? 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 Uè, maccarù! Uè, ma... Ma come ti fai il mito, tu? E tu come ti fai il mito, tu? Che? Animalo! Che? Eeeh! E tu come ti fai il mito? Non mi affilavo la casa. Mi dico che tu hai sbagliato il numero. Ma chi sei tu? Tu hai sbagliato il numero! Lui! Ma chi è zio? Pasquale? No, eh... Zio... Gilormo! Va bene, buonasera, vedi? Buonasera! Ciao a voi! Uè, maccarù! Uè, maccarù! Uè, maccarù di chi te poi? Eeeh! Basta! Buonasera! Uh, buonasera! Pugno!